La quarta votazione Cultura, il presidente della regione Eugenio Gianni risponde all'interrogazione di Massimiliano Baldini sulle dimissioni del tesoriere del Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane. Presentata al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso, la terza edizione del forum Repower Chianti, Energie per il Futuro. Lucia Annibali è il nuovo difensore civico della Toscana. All'elezione di Annibali si è giunti dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro svolto in Commissione Affari Istituzionali, sulla rosa dei nomi e sulla conseguente struttoria per valutare le potenziali incompatibilità dei candidati scelti tra autocandidature e designazioni dei gruppi politici. Intanto occorre dire che questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata al Presidente della Repubblica Cavaliere del nostro Paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. Credo che sia fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana, e per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escono più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente come capogruppo di Televiva, di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche a mio avviso lungimirazza. Una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo di venti di garanzia nel caso di sidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze, su colui che, con lei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. La posizione è semplice. Abbiamo, hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata da Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. Una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. La regione toscana per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza, utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curriculum arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di sapersi ricompattare. Tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo spiccato e questo è quello che invece non è accaduto. Nel lungo dibattito in aula, tra l'altro io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali i legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della Regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato, con gli altri colleghi del centro-destra, a questa elezione, nulla diciamo eccependo sulla figura, per carità della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale, che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. È un'interrogazione pertinente che ha motivo di essere, esprime preoccupazioni che condivido ed è uno stimolo ad agire. Così il presidente della Regione, Eugenio Gianni, risponde in aula all'interrogazione di Massimiliano Baldini sulle dimissioni del professor Bellini, tesoriere del Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane. Baldini ha replicato di voler sgombrare il campo da una questione politica. L'interesse principale è la gestione del comitato, poiché ci sono molte risorse a disposizione da sfruttare. Io ho avanzato un'interrogazione precisa che però è stata depositata il 5 di dicembre, cioè in un momento in cui si era dimesso il tesoriere del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Puccini, facendo e avanzando delle contestazioni estremamente precise e piuttosto severe nei confronti della conduzione del comitato da parte del presidente e in un momento in cui c'era difficoltà nella riunione del comitato e c'era anche voci che ci fossero ulteriori dimissioni. In questi giorni, in queste settimane, poche settimane, è successo di tutto. Cioè sostanzialmente oggi siamo andati a prendere atto di una situazione che noi in qualche modo avevamo verificato che potesse oggettivamente succedere e infatti ad oggi che cosa è successo? Che le dimissioni in atto sono state molteplici, sia nel comitato che nel comitato scientifico, di particolare peso. Il comitato non si è riunito a più riprese, non riuscendo ad approvare il bilancio, quindi non riuscendo a poter spendere quelle risorse che erano assegnate per quanto riguarda l'anno 2022 ma che vedono risorse estremamente importanti, 9 milioni e mezzo in vista di un appuntamento che è di portata mondiale oggettivamente. E non solo, i rumors che anche oggi abbiamo è che le dimissioni potrebbero non fermarsi ancora e che la situazione è di completo stallo. Siamo tutti molto preoccupati per come si stanno succedendo i fatti all'interno del comitato. C'è stata oggi un'interrogazione anche dell'opposizione a dimostrazione che non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico ma è proprio un tema di essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la provincia di Lucca. Ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione, ci sono le dimissioni di un tesoriare e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il comitato cominci a lavorare in maniera totalmente diversa. Il comitato, e aggiungo anche, essendo della provincia di Lucca, anche la fondazione Puccini che deve essere protagonista, il presidente purtroppo è lo stesso. Apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del comitato. Mi auguro che il governo andrà sulla stessa linea. È stata presentata al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso la terza edizione del forum Repower Chianti e Energie per il Futuro che si svolgerà il 3 febbraio alle cantine Antinoria San Casciano-Valdipesa. All'interno dell'iniziativa del forum verranno assegnati anche i premi Chianti Tesi per tesi di laurea volte a sostenere, analizzare e valorizzare lo sviluppo delle economie locali. Io sono davvero orgoglioso di poter presentare questa importante iniziativa oggi qui in Consiglio regionale. Energie per il futuro, Repower Chianti, è un modo per dire che il futuro si vuole costruire partendo dai territori, mettendo le migliori esperienze a disposizione di tutto questo. O noi abbiamo la capacità di anticipare il progresso oppure lo subiamo. È bello che in quell'occasione saranno premiate anche le migliori quattro tesi riguardo queste tematiche e sono contento che tante ragazze e tanti ragazzi abbiano dato il loro contributo nel ridisegno di un territorio. La politica ha questo ruolo. Ha il ruolo insieme a istituzioni locali, insieme a soggetti pubblici e privati di disegnare le politiche di sviluppo di un territorio. Ed è esattamente quello che faremo in questa iniziativa, che sarà un momento di ascolto, un momento di confronto, un momento in cui tracciare le traiettorie per un futuro migliore. È un'iniziativa che va avanti da alcuni anni in maniera sempre più solida dentro il nostro territorio. È molto bella perché ci sono dei giovani appassionati, studiosi e organizzatori che si occupano del Chianti, cioè di questa terra che è anche un simbolo per la Toscana, ma guardando sempre oltre il Chianti. Lo si vede anche dagli eventi che vengono fatti, anche dal luogo dove vengono fatti, che sono le cantine Antinori. Quest'anno sono state anche premiate come miglior cantina del mondo, ma è un al di là della bellezza che rappresenta il saper fare del territorio. Le cantine Antinori anche rappresentano l'immagine che il territorio del Chianti ha verso tutto il resto del mondo. E Chianti Economic Forum e Chianti Tesi si occupa di un territorio mai guardandolo da solo, ma sempre contestualizzandolo ampiamente. Lo si vede anche dagli ospiti che sono stati invitati nelle scorse edizioni, ancora di più in questa, a partire dall'ex ministro, dal professor Giovannini. Noi siamo oggi a presentare la terza edizione del Chianti Economic Forum, che sarà Repower Energy Chianti e avremo l'occasione, quindi anche in questa occasione, di presentare il premio Chianti Tesi, che è un premio di laurea magistrale sostenuto da Chianti Banca in cui andremo anche a premiare i migliori elaborati che abbiamo raccolto a livello nazionale sullo sviluppo locale. Saranno un'opportunità anche su questo, ai giovani laureati, di poter esprimersi sul futuro in generale delle economie locali.